Cosa fare per i giovani che una volta ottenuto il diploma vogliono lanciarsi nel mondo del lavoro? A questa fatidica domanda ha risposto l'officina dei sapori CESCOT di Sulmona con la Summer School, dei corsi premio riservati ai migliori neodiplomati delle scuole abruzzesi, che hanno deciso di trascorrere in un modo diverso le loro vacanze estive, utilizzando il tempo per imparare un mestiere che può risultare utile in qualunque momento della vita. Ad evidenziare il fatto che la CESCOT oggi sia particolarmente impegnata per il rilancio dell'occupazione giovanile, era stato un mese fa, sempre ad ondati G, il direttore Angelo Pellegrino. Molto spesso i ragazzi occupano il loro tempo in maniera non adeguata e spesso annoiandosi. Noi offriamo questa possibilità di poter far passare loro questo periodo estivo, subito dopo gli esami di Stato che hanno sostenuto, per imparare un mestiere che possa dare loro una possibilità di lavoro anche durante il periodo universitario per chi va all'università. Nasce anche da un'altra esigenza, che è quella di venire incontro ai giovani che molto spesso non hanno neanche la possibilità di iscriversi ai nostri corsi durante la programmazione normale. Quindi noi cerchiamo di venire incontro ai ragazzi e alle loro famiglie con questa proposta. Sconto del 50% a tutti i ragazzi che si sono diplomati negli esami di Stato dell'ultimo anno. Intanto sta per terminare il primo step per i due corsi inseriti nella programmazione della Sarme School. Domani alle 11.30 sono previsti gli esami finali per i potenziali pizzaioli. Il corso cominciò lo scorso 18 agosto e ora darà ai ragazzi iscritti quelle competenze e conoscenze che associate alla creatività nel campo della pizza possono assicurare un concreto inserimento nel mondo del lavoro. Nonostante la crisi, quello del pizzaiolo, è un mestiere che fortunatamente risente di meno degli effetti della disoccupazione. I giovani saranno giudicati da una commissione presiduta da Stefano Goti, assessore all'attività produttiva del comune di Sulmona. Grazie. 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 Grazie.